Quando e come nasce l'idea di fare un libro su Silvano Contini? Ma guarda, è da tantissimo tempo che ci pensavo perché Silvano è stato un corridore tra i più grandi della sua epoca. Se guardiamo al Palmare possiamo benissimo dire che oggi pochissimi possono vantare un livello uguale di vittorie. Lui ha indossato 14 volte la maglia rosa, è stato quinto, quarto e terzo al giro, ha vinto tutte le principali classiche italiane e una classica monumento come la Liegi Bastogne Diegi. Questo bastava già per fare un libro. Poi ci sono sorti altre motivazioni tra le quali quelle di fare beneficenza. Finalmente un libro su di te. Ti ha sorpreso questa iniziativa di Paolo Costa dopo tanti anni che hai smesso l'attività agonistica? Sicuramente, è stato un grande piacere per me perché comunque non mi sarei mai aspettato di trovarmi a raccontare un po' tutta la mia vita ciclistica e poi vederla pubblicata in un libro. È stata una cosa molto bella. Se dovesse sintetizzare la tua carriera professionistica in poche parole, cosa diresti di te? Ma io sono più che soddisfatto della mia carriera anche perché io penso di aver raggiunto risultati che all'inizio quando sono passato professionista non avrei mai immaginato. Quindi ho dato sempre il 100%, forse anche qualcosa in più di quello che potevo. Devo dire che sono felice e non ho rimpianti di quello che ho vinto o quello che ho perso. È una grande rivalità ma anche una grande amicizia. Sicuramente sì. Abbiamo più o meno la stessa età, lui è un po' più giovane, quindi già nelle categorie minori c'era questo continuo antagonismo fra di noi. Si vinceva e si perdeva. Quando io venivo nel Varesotto lui era più forte perché era più scalatore. Però comunque alla fine da professionista ci sono stati anni in cui lui era una squadra importante come la Bianchi. Correva per vincere, era un forte scalatore. Quando partiva lui ci faceva soffrire, dovevamo inseguire. Però al di là di tutto c'è sempre stato una grande amicizia e un grande rispetto. Nonostante i ruoli, i compiti erano diversi e quindi anche le aspirazioni e il modo di correre è diverso. Però ci ritroviamo ancora oggi, andiamo a fare qualche giro in bicicletta. È rimasta una grande amicizia proprio perché c'è stato veramente grande rispetto. Giuseppe Saroni è stato più un rivale o un amico? Siamo stati sia amici che rivali perché noi eravamo amici però in corsa ci facevamo la guerra. Quindi sono stati dei bei momenti e adesso continuiamo a vivere questa amicizia in modo profondo. Sorrisi e fantasia, questo è il titolo del volume? Sì, ricorda per i più vecchi come me, un capocronista della prealpina che scriveva libri di ciclismo, si chiamava Natale Cogliati. In questo caso è un titolo che mi ha fatto gioco per due motivazioni. Punto primo perché rimanda appunto a quel ciclismo che dicevo prima, un ciclismo ruspante. Secondo i sorrisi perché il sorriso è la prima cosa che Contini vi offre quando lo incontrate. Cioè lui ha questo sorriso e mi è piaciuto mettere anche questo aspetto sul titolo. Contini ha il grande rammarico di non aver mai vinto la Trevalle. Guarda mi dispiace tra l'altro una di queste, lui ci è andato molto vicino perché credo all'arrivo di Cadrezzate sullo strappo finale lui e loro erano loro obbligo a attaccare, cercare di distaccarmi. Bene, purtroppo, oggi posso dire perché siamo amici, purtroppo l'abbiamo ripreso a 300 metri dall'arrivo e è riuscito ad arrivare, credo ancora, a terzo e quarto. Ho vinto io davanti a Gavazzi ma c'è mancato veramente poco e un po' oggi mi dispiace. Da Varesino, da Varesotto c'è sempre il rimpianto della Trevalle. Beh, quello è rimasto una spina nel cuore perché comunque la Trevalle per uno di Varese è il massimo delle corse. Ci sono arrivato diverse volte vicino ma purtroppo è andata così. Mi sono consolato con la Bernocchi. 14 volte in maglia rosa, che emozioni mette questa maglia? Beh, è una cosa bellissima mettere una maglia rosa, una grandissima soddisfazione. E sarebbe stato meglio portarla fino alla fine però, d'altronde, in quegli anni c'erano dei grandissimi corridori, dei grandissimi campioni per cui per me è stato già un onore averla potuta indossare. Non c'è più attualmente il ciclismo di quegli anni? Beh, è cambiato molto il ciclismo. Sicuramente è un ciclismo molto più attento ai particolari, cose che secondo me poi alla fine sono quasi inutili, che conta è il cuore, l'umanità che un corridore ci mette nell'affrontare le corse. Grazie. Grazie.